Parte di un'idea che nelle intenzioni dell'assessore al turismo Maurizio Bucci farà crescere le attrattive smart di Trieste, al centro di un progetto per il quale il Comune ha presentato una candidatura a livello europeo che verrà illustrata fra una decina di giorni, è stata presentata oggi l'app ItTaxi. In buona sostanza, come recita lo slogan, sarà possibile prenotare il proprio taxi con un clic. Le 227 vetture della cooperativa RadioTaxi Trieste, che stamani ha spiegato i dettagli dell'iniziativa assieme alle associazioni di categoria, sono state dotate di un software che appunto consente al cliente di prenotare un taxi in maniera molto facile. Cliccando sull'app, il cliente viene immediatamente localizzato, avvertito del numero di taxi selezionato e potrà seguire anche gli spostamenti della vettura in procinto di raggiungerlo. Attraverso tale metodo, fra l'altro, sarà possibile anche prenotare il servizio con anticipo, anche in un luogo diverso da quello da cui si chiama. L'app consentirà una maggiore rapidità, già che di fatto salta la coda ai centralini, che di solito si forma all'ora di punta o in occasione di particolari eventi, vedi la barcolana. È stata concepita anche, ma non solo per i turisti, già che prevede più opzioni di lingua. ItTaxi, per la prima volta in regione, è un servizio che copre 47 città nel nostro paese, attraverso 12.000 vetture. Finora l'app è stata oggetto di 400.000 download, 8.000 sono le corse mensili effettuate tramite di es.